We are going to have to act if we want to live in a different world. E io vado in quella casa lì. Pompano. Buona migraiglietta. Sento un pompa. FAMAS. Io un pompa di grafico. Sento pass. Pistola. Sento pass e adesso non mi sento più. Spari. Sento pari. Questo mi sta traccando attraverso il muro? Che cazzo c'ha? Le bot? No, le bot non ti fa sperare attraverso il muro. Pari. No, no, mi tracca. Non mi prende. Mi tracca. Però tu non lo vedi, giusto? L'ho fatto fuori, l'ho atterrato. Mi traccava attraverso il muro. Si è appena iniziato. Ah, uno morso. Aveva un pompa da venire da me. E... È sento agente. Mediti per me. Ho fatto 60. Eccolo. Eccolo. Ucciso. Spero se ti morivi, mamma mia. Mi ho fatti fuori due. Ok, anch'io. Abbiamo 4 kill. Fucile del salto, meno male. Eccolo del salto, ma io ho un po' di poche. Eccolo del salto. Eccolo del salto. Eccolo del salto. Lo avete fatti fuori tutti? Eccolo del salto. Eccolo del salto. È un sacco. Eccolo del salto. Eccolo del salto. Eccolo del salto. Ma dai! Che l'hai fatto ballare? Io lo so! Non spaccarlo! C'era sul legno! Eh bro! Ho messo ripasso del legno C'è un peperoncino C'è un peperoncino Avete visto il video di quanto vai veloce se mangi un peperoncino Con gli artigli di Wolverine E' un pesce peperino Si ma vai super veloce tipo Si sembra che le ha Vero Già col peperoncino vai veloce Tipo tutti ti iniziano a segnalare Ma tu non c'hai niente Che altro ce l'ha dei gerencini raga Corri 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 Fanno blu Bonum! Io c'ho la R blu Anch'io Bonum! 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 Quattuna colpi sniper Bonum! Bonum! Ciocchino Dove sei? Si non sei io Tieni Un altro posto ho trovato Dammi 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 Voglio io Te lo lascio andare Tieni No io non lo voglio Dove sono i colpi? Tieni i colpi Sì E anche io non sei Io ne ho dodici Ma dai anche me lo Ne ho sette Grazie Anche io son bravo quel cerchino eh Io no Eh si può vedere tu però Eh vabbè perché io c'ho il mouse e gli fps Io devo migliorare Io devo migliorare Così Eh si C'ho da molto tempo Deve migliorare Cioè io Cioè io Nell'intera stagione 5 Non sapevo nemmeno fare una kill quasi Veramente Quindi Vabbè perché tutti mi bildavano in faccia E non sapevo nemmeno qual era il bottone In testa Ah Eh vabbè Due scildoni la sopra Che culo Comunque non so se avete notato ma si andrà soli a forza A siepi è Non l'avete visto No 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 Non l'avete visto Non l'avete visto Non l'avete visto Ma non capisco mai il motivo Però adesso ti conosci il don Non mi renda R verde qua No ma sbianco Un giretti Un pistola bianca Un giretto in giro Non so quando si muove Aspettate mia Prima di entrare nella venditura Ma non entriamo infatti Se andiamo senti E vabbè Che cosa la gomma Eh l'ho fatto quello scildone E non lo trovo più Ma se l'ho pure pingato Lol Dove dove trovare delle cure Perché son senza E io sono Giappone che c'ho due shop R verde Io lo faccio Io sono il suo peggio di tutti Io tranne pompa e io tranne il panto scildone Ho fatto Lo fa ferro Però tieni lui Perché lui non lo manco per Ferro te lo sei fatto quello benedetto Scildone immacolato colato si ho pesca qualcosa oh madusa da quando le palle da tennis ti fanno quell'effetto tipo oh posso portare in giro le palle da tennis bolt blu pescato bolt blu pesce pesce shield a questo punto il bolt possiamo verlo tutte e tre se non è che sia un giugno non mi piace la raga perché c'è gente andiamo così la raga andiamo con l'ultimo ma fosse la cassa è vero poi c'è una cassa speciale finita raga da me aspetta questo non lo vuole nessuno ah aspetta dai che schifo fa ma dai ma le casse quelle viola intendi no le casse con le norme dei voti ma raga siamo tutti full e io solo un colpo cecchino me ne date qualcuno ma perché te lo sei preso eh piuttosto delle del pesce scudo che poi mi sono prendo io pesce shield no l'ho già fatto il pesce shield ho tenuto la scelta ma io non parlo perchè rinunci alle cure che ha il cecchino perchè rinunci alle cure e prende il cecchino ce l'avevamo già noi il cecchino eh vabbè eh vabbè ma noi siamo forti ha già fatto il proiettile chi è? ma guarda dove state andando voi? ho preso uno? non lo so ma c'è gente? si si mi infligge ancora un po' di danni che mi completi la missione fatti tutte e due mi sa che c'è gente sotto quel pezzo lì no non c'è nessuno erano a nord no ok ho visto qualcuno entrarci raga mi porto con un shieldone io ce l'avevo già io il medikit qua c'è un flopper prendo il flopper io ho preso il flopper gente ma quante chili stai facendo? per andare in safe solo uno shield solo uno shieldino aveva di andare in safe quanti medikitai? e ne avevo uno l'ho lasciato qua qua c'è un altro no prendevo tu io c'è il flopper ok veloce devi andare in safe raga chi stocca dei shieldini? dobbiamo prendere? secondo me se Wolverine è ancora vivo adesso fa il devasto oh io ho già due shieldoni bro buoni se Wolverine è vive ci sono morti tutti le fenditure le fenditure aspettate però e io son già dentro ma perchè? ma perchè? fai gli affari tuoi aspetta vedo dove stai? vieni sono qua vai vai oddio poi ci sono dei resti di nitroglicerina eh eh guarda boom punto di recupero vai andiamo dai a prenderlo eh non mi spillo perchè non mi spillo vieni sopra la torre vieni sopra la torre oh oh cosa? guarda ma l'hanno dato fuoco a sto albero ma perchè tutti gli alberi infuocati raga? perchè io ho lanciato il punto di recupero io son follato di legno no io no guarda questo è il punto di recupero non lanciarlo no me lo tengo in mano nel caso trovi una r bagato oh ma perdiamo vita ma qua c'è una r bagato perchè non c'è più non c'è più non c'è più perdiamo vita per il fuoco che genio lo so che perdevamo vita detto eh cosa c'era mi ricordo lascia giù quella cavolo di roba che se ti sparano sei fritto è vero soprattutto se mi colpiscono in testa eh poi esplodi dobbiamo andare a pantano eh c'è un airdrop a pantano ok alla fine della safe proprio al bordo e secondo me lì c'è tanta tanta gente siamo ancora in 13 no dico secondo me lì ma scusa abbiamo questi cerchini ma non abbiamo fatto ancora nulla vabbè comunque mi date dei colpi di ciocchino ma ma ancora non hai trovato casse di munizioni no eh io non ho pochissimo e la connessione non mi va praticamente io ho pochissimi colpi edo oh sto vedendo ce n'ho un team davanti arrivo siamo qua a il potere di iron man cioè i repulsori dov'è? eccolo dov'è? fatto ero in solo grande c'è mattieri uh aug passi no raga vi siete fuggati tutto eh no raga me ne vado io avevo il carica ma mi date qualcosa anche a me ma ti dammi lo spasso c'è la tattica viola ce l'ho io il nonno ma io non c'ho lo spasso datemi uno spasso io ho questa da metemi lauglaug almeno laug dai e vediamo lauga almeno mi date colpi di ciocchino matti e lì ha arrivato ciao ragazzi adesso gioco un po male perché adesso mia mamma devo ripuare dal letto perché non posso giocatore della te mia mamma di chiudere la salsa ok ok perché non vedo un cazzo vivente siamo ancora in undici devo tirare si sono la sto sparando occhio uno dall'alto occhi di più non vedevo niente 22 gli ho fatto 22 fatto uno sopra morto morto è buono siamo in otto potete morire o grande è stato un robot ma la cammina qua si è atterrato un altro lo è stilato cos'è stato cos'è stato oh raga guardate cosa c'è viola laser si raga con la bomba edo per te è meglio mattia fermo cosa e non so perché mi sono ritrovato fuori da finire se vuoi se vuoi c'era c'è quello di viola arabo lo metto arabo sono di sopra sono di sopra perché perché vi siete fregati tutto annaccio a voi se vuoi ti da una mitragliata tattica viola no 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 c'è un drone ci sono due droni ma uno è tutto inglese adesso ho tutte le cose in inglese nice guarda il loser dove sono tick tale guardateli a cosa ho trovato storm oh my gosh storm surge best mates dove sono gli ultimi raga arish sono dall'altra parte no vabbè molto più figo dobbiamo andare in safe ferro montese però non è che ho fatto male da questo capirai 30 metri da fuori sono la in quella struttura lì dove? oddio le torni gemelli si sono camperati fermo ah stai fermo eh ma ce n'è un in solo quindi ecco lì mi sono noto come siamo in soli noto chi so dove aveva messo il monoreggio di ironman sono dentro c'è oh c'è va oh colpito mi ha colpito hanno il volto viola eh 105 nice mi ha atterrato perchè hai frisciato da solo eh no questo è un po' un karma eh aspetta no 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 nel modo come lo restiamo scusa e poi c'è il furgoncino no e l'ospe poi stanno stanno andando a come in inglese una volta eccolo molto figo troppo mettiamo anche un soggetto ma ho troppo bene ottimo se registrando stai per caso che cazzo di come non ci sono per via che palle però qua ci sono un fatto grande voi di tre era sopra a uomo bella con i due ottene uno è ciò di come molto confuso e forza non l'ho fatto un leggero laser oggi niccolò impazzito di mai detto passi non è che mi potete no ma cosa stiamo dicendo passi arrivo su uno bro andiamo dai fini morto la stessa la morte ma se non so e scemo ma i e e dagli abbiamo vinto dai e mantaglia non è no ma no 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 no